Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo per ragazzi e ragazze a partire da 12 anni. La storia di un'amicizia tra un ragazzo cristiano sloveno e un migrante musulmano siriano che porta il lettore a riflettere sulle grandi domande che riguardano le relazioni tra mondi, culture e sentimenti diversi. La trama del libro Guarda dalla finestra, dello scrittore Evald Flisar, pubblicato dalla casa editrice Besamuci, è la seguente. La storia dell'amicizia tra un essere umano e un animale e di quella tra un ragazzo cristiano sloveno e un migrante musulmano siriano. Nel giorno del suo quindicesimo compleanno, il ragazzo, ferito profondamente dalla sua famiglia, decide di farla finita e di annegare nel fiume lì vicino. La colpa. Che segna il confine tra Croazia e Slovenia ed è un noto punto di passaggio per i migranti della rotta balcanica. Viene salvato in extremis da un rifugiato siriano di qualche anno più grande e insieme iniziano un avventuroso viaggio attraverso l'Europa fino a Londra, dove Ahmed vuole raggiungere il fratello malato. La strada percorsa insieme li aiuterà a fare i conti con le differenze culturali e religiose e a interrogarsi su valori universali come l'amicizia, la libertà e l'uguaglianza. Con un'originale e particolare narrazione in seconda persona e un finale sorprendente e inaspettato. Guarda dalla finestra conduce il lettore nel cuore delle grandi domande che costruiscono la trama delle relazioni fra mondi, culture, sentimenti diversi e non così distanti come potrebbe sembrare. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.